Flavio Destro, tecnico della Fermana, ai microfoni del sito ufficiale ha così presentato il Mat contro il Vicenza. In settimana insieme ai ragazzi, abbiamo studiato bene i nostri avversari, analizzando anche gli errori che abbiamo commesso a Trieste, e che non dovremo ripetere. Il Vicenza è una squadra che va affrontata a grandi ritmi, senza concedere campo e spazi pericolosi. Dovremo fare molta attenzione. Il Vicenza nella scorsa stagione faceva la Serie B e da giocatori, specie in avanti, che la cadetteria la conoscono bene. Ha inoltre elementi di grande spesore in ogni reparto ed una buona organizzazione di gioco. È molto difficile fargli gol, ma noi come sempre cercheremo di fare la nostra gara con le nostre armi, e con il massimo dell'impegno, riporta tuttolegapro.com.